Salve a tutti, bentornati. Dopo un po' di conversazioni sul Medioevo, torniamo adesso al XVI secolo e parliamo dell'affaire Galileo Galilei. Galileo nacque a Pisa il 15 febbraio 1564, siamo in pieno XVI secolo. Sappiamo in breve, lo diciamo, che nel 1581 Galileo si iscrisse all'Università di Pisa, che ottenne grazie ad un cardinale uno studium in realtà a Bologna, poi ottenne una cattedra a Pisa e poi la più prestigiosa a Padova. Ricordiamo il suo perfezionamento del cosiddetto cannone occhiale o cannocchiale per cui scrisse il Sidereus Nuncius nel marzo del 1610. Galileo fu un filosofo di corte, di Cosimo II, granduca di Toscana, risale a luglio del 1610 la sua scoperta delle macchie solari, fu in matematica un fisico insieme, un lavoratore instancabile, un ricercatore appassionato, uno scienziato geniale. Tanti dicono essere lui il fondatore della scienza moderna perché fu forse il primo che esplicitamente parlò che la scienza è fatta di sensate esperienze e necessarie dimostrazioni. Le sensate esperienze sono il metodo induttivo per cui siamo indotti a compiere, appunto a esperire certe cose e le necessarie dimostrazioni sono il metodo deduttivo che deduce dopo l'induzione e descrive tutto in termini matematici. Galileo fu un credente sincerissimo, fu in rapporti di amicizia con molte personalità ecclesiastiche, il suo principale guaio, come vedremo bene, ma come tutti sanno, fu l'incomprensione col Papa Urbano VIII, cui dedicò l'opera Il Saggiatore in polemica col gesuita padre Orazio Grassi e che opera che Urbano VIII gradì moltissimo. Galileo morto nel 1642 è l'icona sbiadita ormai, sciocca e perfino falsa, usata da alcuni per opporre scienza e fede che non si oppongono affatto, ne ho già parlato in altra conversazione. Aggiungo qui che se una invasione di campo fu fatta dalla Chiesa, nel caso Galileo, era per evitare non che la scienza diventasse, come dire, superiore alla religione, ma che lo scientismo diventasse un'altra religione con i suoi dogmi. Mi spiego meglio, cito Titus Burckhardt, morto nel 1984, un filosofo svizzero che poi si convertì all'Islam, che scrisse lui, islamico, che la Chiesa aveva chiesto a Galilei di presentare le sue come ipotesi e non come verità assolute, perché la scienza è una ipotesi e quando presenta solo certezze indiscutibili non è scienza ma è scientismo. Era questo che la Chiesa voleva evitare. Molto simile a quella di Burckhardt fu l'opinione del filosofo Paul Feyerabend, morto nel 1994, che tra l'altro era anarchico e ateo e che, pensate, proprio per questa sua appartenenza, direi, possiamo ritenere scevra da ogni, diciamo, da ogni problema questa citazione, fu citato da Papa Benedetto XVI, Paul Feyerabend infatti diceva che la Chiesa era stata più fedele alla scienza di Galileo nel processo Galileo, ma questa cosa, Benedetto XVI, costò la visita all'Università della Sapienza per la famosa procurazione, protesta dei sessanta e poco più ricercatori e professori della Facoltà di Fisica. Parla di Galilei significa parlare della sua condanna per avere sostenuto la teoria eliocentrica che era già di Copernico. Significa per noi però anche recuperare la verità storica nonostante un cumulo di sciocchezze e di leggende nere che non fanno onore ai cosiddetti storici che le danno per vere e le insegnano come tali, sebbene il mare magnum sia quello poi in realtà in cui si immergono centinaia di persone, soprattutto sul web, che sono in realtà vittime di una grande ignoranza riguardo a questa questione. Quanti furono i processi a Galileo Galilei? Non è vero che furono due, ce ne fu uno solo. Il primo, erroneamente ritenuto un processo, cioè quello del 1616, fu soltanto una convocazione di Galilei a Roma. Ci fu una richiesta di chiarimenti e tutto si concluse con una semplice ammunizione verbale. Fu infatti la Corte dei Medici a Firenze che stipendiava lautamente Galilei, che ne aveva necessità anche per mantenere la famiglia e sostenersi agli studi, che gli chiese chiarimenti. Galilei infatti aveva scritto una lettera alla amata Cristina di Lorena dicendo una cosa sacrosanta, cioè che la Bibbia non va interpretata letteralmente e che lui stesso aveva udito dire, si dice che l'avesse udito dal Cardinale Baronio, che lo Spirito Santo aveva ispirato diciamo la Bibbia perché la Bibbia dicesse come si va in cielo e non come vada il cielo. Questa frase è più nota sui libri di storia dicendo che Galileo avrebbe detto appunto che la Bibbia ci dice come si va in cielo e non come è fatto il cielo. Al di là della metafora, cosa successe dopo questa lettera alla Granduchessa Cristina, che il dominicano fiorentino Padre Caccini lo attaccò violentemente in una predica nel 1615. Dunque Galileo fu chiamato a Roma sotto il Papa Paolo V, che era un grande stimatore di Galileo, e Paolo V gli chiese di soprassedere per adesso alla, diciamo, alla teoria eliocentrica, considerato che anche filosofi del calibro di Bacone e Pascal Cartesio erano contrari a tale teoria. Prima di parlare nella prossima tradizione del primo vero processo, unico processo a Galilei, una considerazione. La fedeltà di Galileo alla Bibbia è un dato indiscutibile. Proprio per questo grande amore alla Bibbia Galileo poteva dire che Dio aveva creato, anzi aveva, come dire, scritto due libri, il libro ispirato della Bibbia e un secondo libro, cioè il cosmo, la natura, che si legge, dice Galileo, nella sinfonia del creato. Però il XVII secolo era quello successivo alla riforma, anzi allo scisma protestante e luterano, e quindi la Chiesa, in qualche maniera, anche per evitare troppe erosioni, diciamo così, verso il luteranesimo, doveva mantenere un po' ferma una certa interpretazione letterale della Bibbia. Pensate che d'altronde Lutero nel 1539, prima ancora che Copernico scrivesse, Copernico, il vero scopritore dell'elucentrismo, prima ancora che Copernico scrivesse il De revolutionibus orbium celestium, aveva definito, Lutero, aveva definito Copernico il pazzo che vuole sconvolgere l'arte dell'astronomia, visto che nella saga scrittura Giosuè aveva detto al sole, o sole fermati in Gabbaon, Giosuè 10-12, e Lutero interpretava letteralmente questo brano e quindi diceva che non poteva darsi una teoria eliocentica, cioè che era la terra che era ferma e il sole che si muoveva. Ne parliamo la prossima volta. Grazie a tutti.